Nuovi meccanismi molecolari che causano recidive in pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta di tipo T sono stati individuati grazie ad uno studio condotto da Casa Sollievo della Sofferenza. Francesco Rossi. Il nostro studio, concentrato proprio sulla leucemia linfoblastica acuta tipo T, ha trovato che ci sono delle particolari meccanismi molecolari che sono attivi nella minima residua che possono essere targettati terapeuticamente in maniera molto più mirata. Questi meccanismi possono avere l'effetto di rendere le terapie meno aggressive e più efficaci. Meno aggressive parliamo di chemioterapie sostanzialmente? Sostanzialmente sì, la leucemia linfoblastica acuta è un tumore molto aggressivo. Negli adulti solo il 40% dei pazienti sopravvive e nei bambini hanno molti effetti collaterali che ritardano lo sviluppo. Di questo 40% che sopravvive il 60% hanno delle ricadute, delle recidive. Ha l'effetto di curare le ricadute ma anche l'effetto di diagnosticare meglio se un paziente andrà in recidiva o meno. Quindi ha un effetto di rendere le terapie o i sistemi di indagine e diagnostica molto più sensibili. Che strada può fare questa ricerca ancora? Lo sviluppo è creare delle terapie mirate, quindi creare dei farmaci che possono essere efficaci su questi meccanismi molecolari che abbiamo identificato e creare delle terapie che possono essere personalizzate, cosa che adesso non c'è. Fino a qualche anno fa la diagnosi di leucemia era una sentenza di morte. Possiamo dare una speranza? Senz'altro, è un processo che sta andando avanti, è un gradino in più che abbiamo fatto per curare queste malattie. Di sicuro non abbiamo la cura completa ma un passo avanti è stato fatto.